Cari amici, cari amiche di Xapuri, è davvero un piacere per me potervi mandare gli auguri per il vostro compleanno pieno e rotondo. Credo che sia davvero importante riconoscere il lavoro che le organizzazioni del commercio eco fanno sul territorio perché non si limita a promuovere una cultura di giustizia dal punto di vista anche economico della produzione del commercio, ma servono a costruire la pace. La pace non è solo un'assenza di guerra, non è solo disarmo o stoppare le armi, ma è anche costruire giustizia vera, è anche costruire capacità per tutte le popolazioni di tutto il mondo di potersi pensare un futuro migliore, un futuro positivo. Io poi vengo da questo mondo, ho lavorato per tanto per altre economie, quindi il mondo del commercio eco e della finanza etica lo conosco bene e credo che davvero sia un pezzo del mosaico di pace che serve. Credo che ognuno di noi deve fare il proprio percorso, deve fare il proprio ruolo, deve portare avanti le proprie azioni sapendo che contribuisce a costruire quel pezzettino di arcobaleno della pace che è fondamentale per il nostro futuro. Quindi ancora auguri, grazie per il vostro lavoro, grazie per aver intersecato spesso e volentieri le campagne della nostra rete italiana Pace Disarmo e le iniziative fatte insieme e continuiamo così. Grazie ancora.